Qual è il posto giusto per crescere una bella famiglia? Forse lo è un appartamento che comincia a essere stretto, magari in mezzo a tante persone, dove devi far silenzio, dove devi fare la lavatrice solo in determinati orari, altrimenti si innescano litigi, dispetti, oppure una bella casa indipendente. Ciao, io sono Marco, marketing immobiliare, mi trovo a Costa Lunga di Monteforte del Pone per presentarti questa casa indipendente abbastanza grande da poter essere già abitata. Con i suoi modesti 170 metri quadri di casa abbiamo queste scale che ci portano al primo piano e all'abitazione vera e propria. Vediamole insieme. Appena entrati, come vedete, abbiamo questo lungo corridoio che subito alla vostra sinistra vi porta una cucina abitabile. Dall'altra parte abbiamo il salotto. Come vedete, questi due vani sono divisi da queste due periane che potete abbattere e creare un stupendo open space per avere enormi spazi e star sempre vicini alla vostra famiglia. Più avanti entriamo nella zona notte dove alla vostra destra abbiamo il bagno. qui abbiamo una delle nostre prime camere da letto, una camera singola. Più avanti abbiamo una seconda camera matrimoniale. e qui abbiamo la camera padronale che dà visuale sul vostro terrazzo privato che si collega anche dal giardino perfetto per aperitivi o cene con gli amici. Scendendo queste scale abbiamo il giardino abbastanza immenso che percorre tutta la casa dove potete lasciare giocare i vostri figli. Come vedete, abbiamo anche l'entrata al garage doppio. e nel caso siete una famiglia che ha a cuore i vostri amici e piace organizzare cene di Natale ma purtroppo fa freddo e la terrazza non si può usare abbiamo anche una generosa taverna che vi farà ospitare almeno una quindicina di persone. Qui abbiamo persino l'angolo cottura dove potrete preparare le varie pietanze e un cammino dove potrete fare la carne alla braccia. In caso abbiano bisogno di andare in bagno abbiamo pure il bagno della zona terra. Qui abbiamo una quarta camera perfetta anche per diventare uno studio per il capo famiglia oppure una stanza giochi sempre per i vostri figli. E nel caso litigherete su chi userà questa camera abbiamo anche una quinta camera a vostro piacimento. Concludiamo il tutto con questa diciamo zona cantina che ha le scale che porta al primo piano cioè la zona abitativa. La casa si trova in un ambiente tranquillo e pulito perfetto per andare a correre o fare passeggiate. Siete molto vicini al supermercato e al centro paese. Come vedi è una casa che ha tutti i comfort necessari per crescere una bella famiglia e fare anche amicizia con altre. I lavori per aggiornarla o migliorarla non sono molti dunque ti consiglio di non perdere questa occasione clicca il link qui sotto in descrizione per scoprire il prezzo di vendita e fissa subito una visita prima che sia troppo tardi. Da Marco Marketer Immobiliare ci vediamo a rogito. Ciao! 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 Ciao!